Benvenuti sul podcast di Triskel Edizioni. Ovunque voi siate, buon ascolto. Il cactus non ha colpa di Roberta Marcaccio, pubblicato da Triskel Edizioni, legge Roberta Marcaccio. Introduzione seria. Ricomincio dalla fine, dopo mesi di assenza, viaggi, altre vite vissute in qualche modo, a fatica, con i pugni chiusi, i denti stretti e il cuore intrappolato in una gabbia di emozioni altalenanti. Perché? Perché ho deciso così. Ricomincio da una storia che ho vissuto sulla pelle e nelle vene, con chilometri alle spalle, giornate trascorse a rincorrere treni che passano e qualche volta si fermano. Ho un tatuaggio grigio sull'anima che mio malgrado qualcuno ha disegnato e se voglio tornare a vivere devo cancellare. Ho messo un punto o almeno ci sto provando per davvero. Ricomincio conoscendo meglio le persone, guardando cosa dicono gli occhi prima di fidarmi ancora. Ma che palla è la serietà. Nella mia seconda vita voglio solo prendermi in giro e in ogni caso indosso il paracadute. Introduzione semiseria. Che faccio? Ci riprovo? Il cactus non ha colpa, lo so, ma è la prima cosa che mi ritrovo in mano dopo aver sbattuto le chiavi sul tavolo e ovviamente la porta. Il lancio è tutt'altro che preciso, avrei potuto colpire il muro, o che ne so, il quadro del diploma idiota che mi hanno assegnato il secondo anno, migliore dipendente delle mie mutande. La povera pianta atterra sul divano di pelle color crema che tengo come una reliquia. La mia unica fortuna è che io ho una predilezione per le piante secche e disidratate. Se sono fortunata me la cavo con una passata di aspirapolvere. Spero inghiotta anche il mio malumore. Così prendo due piccioni con un unico stupidissimo seme di fava. Ho guidato per cinque ore e tre quarti con una sola sosta al bagno e un caffè, allietata da una buona mezz'ora ferma in coda a Piacenza per un tamponamento accaduto pochi metri davanti a me. Ci mancava solo l'incidente oggi. Così con la sfiga sarei stata a posto per tutta la vita. Sto collezionando catastrofi che neanche i migliori veggenti potevano prevedere. Calcio via le scarpe in un angolo del salotto, butto a terra cappotto e borsa e pulisco il divano dandomi della cretina per circa 15 minuti. A piedi scalzi raggiungo la cucina. In frigo c'è solo una banana più nera che gialla. La afferro con due dita e la getto nella spazzatura. Metto l'acqua in una pentola e accendo il fuoco. Vado in camera, mi libero degli abiti e mi infilo sotto l'acqua calda. Dopo dieci minuti sono già pigiamata. L'acqua bolle, non peso la pasta. Ho fame e lascio che sia l'occhio a decidere quanta ce ne vuole. Pigiam e carboidrati, la migliore cura contro il dolore dell'anima. Per un po' dimentico che la faccia della terra è piena di stronzi, persone che sanno solo deludere e ipocriti. Non sono capace di analizzare gli schiaffi della vita non prima di aver ingurgitato qualcosa che assomigli alla serotonina in vena e in dosi massicce. Viaggio con la testa immersa nei pensieri. Ho insistito per guidare e l'ho spuntata. Vittorio non voleva mi mettesse al volante. Anche Ilaria ha protestato. Sei troppo frastornata per farti tutte quelle ore di guida, ha sbraitato, minacciandomi di prendermi a calci nel sedere. Quando l'ho risposto che non c'è peggior cosa che pestare un culo secco, è scoppiata a ridere e mi ha mandata a quel paese. Alla fine ho vinto io. Testarda come un mulo quando decido una cosa deve essere quella. In fondo l'auto è mia, no? Almeno fino a quando non dovrò riconsegnarla, assieme a tutti gli extra dati in dotazione dall'azienda. Durante il viaggio non sono di molte parole. Accendo la radio, faccio qualche telefonata e ogni tanto lancio degli sguardi verso Vittorio. Lui mi fa un mezzo sorriso e poi guarda fuori dal finestrino. Alla fronte corrucciata e pieno di pensieri anche lui e immagino siano tutti dovuti a me. Distratta dalle mille parole che ho in testa, non faccio caso a quelle del DJ. Si sono mescolate alle mie e il cervello le cancella. Fino a quando non registro la fine della frase, pensate del vostro capo? Cosa sta dicendo lo speaker? Fa molto chic pensare in inglese e magari anche parlarlo. Saper leggere, scrivere o conversare in inglese è una cosa che mi manca. Il mio professore delle medie entrava in classe e si immergeva nel quotidiano per i primi tre quarti d'ora. L'insegnante d'inglese delle superiori invece leggeva a ripetizione la lezione del giorno, un metodo molto soporifero. Poi Laura Pausini urla nell'abitacolo e io urlo assieme a lei. Le ultime ore sono state un'altalena di stati d'animo, una giostra che va su e giù, da cui non so come si scende. Intanto guido, non posso fare altro. L'automobile conosce la strada memoria. Osservo la freccia rossa del navigatore, la strada che avanza e i nomi dei paesi che mi lascio alle spalle. Ilaria ha insistito perché non guidassi io. L'ho già detto, vero? Mi ripeto, lo so, è il disco rotto della mia depressione. Penso e ripenso alle stesse cose da ore e quando arrivo all'altezza di Pavia la mia autostima ha ormai raggiunto l'asfalto. La sto calpestando con gli pneumatici. Questa cosa degli pneumatici mi fa impazzire. Ci devo pensare ogni volta prima di decidere quale articolo utilizzare. Ti sei stancata di guidare? Vuoi fare una sosta? Mi chiede Vittorio. Mi giro un attimo e gli sorrido. So di essere una pessima compagnia e vorrei che non pensasse che è cambiato qualcosa tra di noi. No, amore mio. Dico con tutta la dolcezza che riesco a recuperare. Guidare mi rilassa. Allungo una mano verso di lui, Vittorio la prende e la porta alle labbra. La sua delicatezza mi disarma ogni volta. È riuscito in poco tempo e con un tatto che ha distrutto tutte le barriere inalzate per anni a catturare il mio cuore. Ho sempre messo gli uomini in secondo piano, dando la priorità alla carriera come scelta di vita. Solo un uomo, a parte Vittorio, è riuscito a farmi vacillare in più occasioni. Ma la mia testa zudra romagnola non ha ceduto. La A21 Brescia Torino è a due corsie, piena di camion che non superano i 90 all'ora e fino al capoluogo piemontese ci costringono a viaggiare alla velocità di una lumaca. Alzo il volume della radio, la musica sfuma e il DJ ripete la domanda di poco prima. Cosa ne pensate del vostro capo? Il mio cervello invia una comunicazione sorda al cuore, che simpatico come suo solito risponde con un pugno contro lo sterno. Smetto per un attimo di respirare. Fateci sapere che rapporto avete con il vostro capo, se è un amico, un superiore imparziale o un despota. Aspettiamo i vostri messaggi e ora ascoltiamo The One di Elton John. Guardo la radio come se il DJ fosse di fronte a me e volessi vomitargli addosso per tutto il resto del viaggio quello che penso. Ha avuto la prontezza di mettere una delle canzoni che amo di più e questo lo ha salvato dalle mie maledizioni. Cerco di non pensare, ma cancellare gli eventi del giorno X, chiamato anche giorno maledetto, e qualsiasi cosa me lo ricordi merita una buona dose di imprecazioni. Guardo il telefono appeso al cruscotto nella presenza che si è apparsa nel frattempo, la notifica di una chiamata o un messaggio che aspetto dal 6 di novembre, ma che non arriva. A Porta Nuova Vittorio scende, prende il bagaglio, lo carica sulla sua auto e mi stringe a sé così forte da togliermi il respiro. Chiamami appena arrivi, mi sussurra. Mentre salgo in macchina, la vocina tutt'altro che amichevole di l'aria mi strilla. Se ti fai scappare Vittorio, ti prendo a calci in quel culo secco. Accendo la Tiguan e parto in direzione di Pont Saint-Martin. Raccontare quello che è successo è complesso, nuotare nei ricordi, se dolorosi, è come grattare sulla ferita e farla sanguinare di nuovo. È impossibile resistere. sfrego le unghie sulla crosta sperando che la carne sia rimarginata, ma quando mi accorgo che non è così, è ormai troppo tardi, la lesione è ancora fresca. Dovrà passare più tempo, prima che quel giorno sia inserito nel raccoglitore, cose quasi dimenticate. Nel frattempo assumo la medicina che sbriciola il dolore e mi aiuta a guardarlo con occhi diversi. La narrazione. Io sono pronta e allora che storia sia. Capitolo 1